Tant'altro la felice di Venezia e non solo, Massimo Checchetto insieme al suo staff ha voluto vincere lo spinto del mondo. Vado a vedere le camiglie. Cosa Massimo? È lei eh? Sono un po' riuscita. Top, top! Denominazione d'origine vista of the Carnival Dance. Noi conosciamo il nostro meraviglioso. Stando preparando, stando sentendo tutte. Io vedo che ci sono anche fluidi ed eleganti perché questa è una delle prime prove. Assolutamente. Adesso eccole qui, applaudiamole tutte insieme! Re valie del carnaval! Delle fotografie mi involgeranno le spalle. ma proprio perché anche voi tutti siete bambini. Diciamo che abbiamo un programma vastissimo. Venezia è unica, è unica anche soprattutto col carnevale e l'atmosfera anche con noi Maria ad esempio è molto molto distesa, siamo tutte affiatate, c'è un clima bellissimo di complicità, di aiuto e anche molto di divertimento. Sì, è molto bello, mi piace la parada, le persone e l'atmosfera, è fantastica. Grazie 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 Grazie